Una domanda, ma il corpo teatro è il dionisiaco? Credo di no, se per dionisiaco intendiamo l'aspetto dell'abbandono, eccetera, senza l'Apollineo, senza invece la ragione. L'attore non può andare in trans, l'attore deve governare il processo, l'attore sa che cosa è successo, deve essere capace di drogarsi senza la droga. Ho la fortuna di fotografare tra dieci giorni delle compagnie teatrali e in quei dieci minuti massimo che avevo per ognuno di loro, ognuno ha così delle cose magnifiche. Cioè io anziché avere la macchina fotografica, avevo una specie di macchina tipo attack, che fa una scansione dell'interno, rimanendo proprio fuori e da un'altra parte, cioè nella finzione erano veri. E come diceva Stanislavski, diceva ai suoi attori, dice per favore almeno in scena non recitare. Perché allora era il teatro dei tromboni, era il teatro dei simulatori. c'è una verità in scena che può uscire soltanto se si è in grado di non recitare. Cioè di non fare i pirla. Sì, di non fare i pirla. Come se, come se, si fosse nella verità della relazione. Come se c'è. E c'è, no, ma pure. Se sei sgalfo come attore, appunto, reciti. Difatti, sempre Stanislavski, diceva, l'attore sgalfo, come dici tu, che cosa fa? Ha una recitazione generica. Cioè, la rabbia è una cosa, la gioia è un'altra. Invece, l'attore bravo ha una recitazione precisa. La rabbia non è una. La gioia non è una. È sempre circostanziata. No? Ha quella scena. C'è la cosa che noi chiamiamo personaggio, che è una figura. Il personaggio non è rappresentare la vita degli altri. Il personaggio è l'attore che sperimenta una forma di vita. Io che interpreto Otello, sperimento facendo Otello, raffigurando Otello, rappresentando Otello, la forma di vita che mi suggerisce quel testo. Non è uno spiare nelle vite degli altri, è uno sperimentare forme di vita. Noi pubblico sperimentiamo? Eh sì, il pubblico le percepisce, come? Il pubblico anche se è ignorante le percepisce queste cose. Soprattutto quando non si tratta di concetti, di idee, ideuzze, ideone, se ne frega. La Callas l'avete sentita. Le parole che canta la Callas, i testi. Non è una roba da sprofondare alla vergogna, di una stupidità. Il duetto tra Callas e di Stefano, nei puritani di Bellini, è stato ripreso in un teatrino di provincia dell'Argentina negli anni 50, in mono. È una cosa sublime. Il testo è Vieni, vieni fra queste braccia. Sì, caro, vengo. Vieni, vengo. Oh caro, amore, oh caro. Vieni, vengo, vengo, vieni. La parola, ragazzi. È una bruttezza imbarazzante. Sentiteli. Soltanto un caprone può non piangere quando li sente. Quello è teatro. La parola è l'ombra della voce. La parola è l'eco del gesto. Quell'altra cosa non è un concetto. Non è un'idea. È un pensiero all'opera. Un pensiero da dove per pensiero si intende... Incarnato. L'incarnazione che si... E come faceva, per velo bene, in chiave ironica, rappresentava Cristo che si chiudava. Questa è la croce. È la stessa cosa girata in chiave comica, in chiave del riso. E questo è Aristotele, lo dice molto precisamente, dice questa è la cosa che ci permette di godere anche di cose terribili che noi vediamo in teatro. Però noi proviamo il piacere, perché questo piacere è la conoscenza. Conosciamo queste cose senza subirle, come capita nella vita. Il paradosso della finzione. Che è vera. Però è anche arte. Infatti fingere vuol dire fare ad arte. Se fai senza arte, mi fingi, simuli. Infatti in inglese dice act, agire. Tutte le lingue si dice giocare, invece recitare viene dalla ritorica latina. Però ci muore un po' di tecnica. A voglia. Bisogna avere una voce, bisogna avere una maschera. Bisogna capire, per esempio, la maschera. La maschera non è una faccia. La maschera è il corpo. Tutto il corpo è maschera. Anche quando hai la maschera. Non è soltanto lei che esprime. Lei esprime nel contesto del corpo. E quindi più sai fingere e più sei vero. Esattamente. Non è facile. E' facile imparare. Farsi il corpo teatro. Ma pensa tu, cosa sarebbe? Un'educazione che ha per obiettivo quello di farsi, che non si faccia il proprio corpo teatro. Questo probabilmente non va d'accordo con la modernità, no? Non va d'accordo con la fabbrica, non va d'accordo con l'impiego in banca, non va d'accordo con un sacco di cose, no? Ma presupporrebbe l'invenzione di un mondo nuovo, di un mondo vulgarmente diverso. Non facciamo finta di saperla troppo lunga. Noi non possiamo sapere cosa sarebbe una vita diversa e cosa sarebbe un mondo diverso. Questa è la maledizione del Novecento, l'utopia. Io disegno una società felice e faccio la rivoluzione per realizzarla. Ma no, chi può sapere cos'è la felicità? Non si può disegnare il futuro. Si può cominciare molto modestamente da quello che Nagarjuna, il grande scolastico buddista, definiva lo sterminio degli errori. La verità, non sappiamo cosa sia, non sappiamo se esiste la verità con la maestro. Lavoriamo sullo sterminio degli errori. Nei confronti degli errori dobbiamo essere spietati. La costruzione del corpo teatro comincia subito, appena nati. Quindi uno comincia a cambiare subito. E allora, sarebbe importante o no? Sarebbe meglio o no che noi, consapevoli di questa cosa, ci ponessimo la questione di come formare i cittadini, perché stiamo parlando dei cittadini, cioè delle persone che vivranno una vita di interazione con altre persone. i cittadini che devono vivere in una comunità. Perché non porci consapevolmente questo problema? Posso avere un goccio di vecchia? Certo. Però sembra un'altra utopia così. Sembra un'utopia, no? È la... Mi sono distratto. Un goccio. Prendine un po'. Ma mettiamo a giù. È come un'idea giusta, ma assolutamente... Giusta, certo. La ritengo giusta, sensata, ma assolutamente irrealistica nel mondo di oggi. Certo. Che si può fare? Lavorare per contagio, per l'unica cosa possibile. Ogni persona che lavora su di sé diventa contagiosa per gli altri. E quindi cambiamo. E quello è il modo, secondo me, principale di fare così. Sì, sono d'accordo. Il tipo di formazione di cui abbiamo parlato stasera è un tipo di formazione che precede gli specialismi, accompagna gli specialismi, gli inevitabili specialismi in cui ognuno di noi, dopo aver definito se stesso, cioè l'aver trovato il proprio punto di partenza, poi si indirizza. Tutti siamo destinati a fare una cosa poi nella vita. Quindi non tutti attori, in quel senso lì, però con una consapevolezza del proprio corpo teatro. Ma come potremmo trovare questa esigenza? Perché senza esigenza non ci muoviamo mai. Se diciamo che dobbiamo esserlo è basta, ma non abbiamo l'esigenza di esserlo. Posso aggiungere che nel tutti gli attori c'è una dimensione che potrebbe ambigua, una moltitudine di individui isolati come se stessi, o il tutti potrebbe essere il riconoscimento di un noi, di una dimensione collettiva. Come si passa dalla dimensione individualista, del lavoro di sé, al riconoscimento che partecipiamo a condizioni comuni, e che non si esce se non insieme le connessioni che ci opprimono. Hai ragione a porre il problema, è un problema stiloso. Noi stasera cosa siamo? Sono persone che si incontrano, condividono un tratto di movimento del pensiero, poi si separano, non facciamo parte della stessa comunità, se non il senso lato. Però qualcosa si produce qui e ora, nella consapevolezza di ognuno, qualcosa che ognuno porta via e poi elabora di per sé, dalla propria catarsi, cioè quello che dice Donini. Catarsi è quando torni a casa dopo il teatro e pensi a quello che hai visto e decidi che significato aveva. Quella roba lì, non è la liberazione, che vuoi liberare. È una piccola cosa, però è vera. Che è parte di un processo. E nessuno lo farà solo. Però è riconoscerlo questo, che è difficile. E la consapevolezza, la cosa decisiva. Soprattutto anche a renderlo più ampio, cioè a parte dircelo oggi, tra noi... Allora, mettiamo su YouTube. Ma che cosa ci impedisce di desiderare una socialità diversa da quella che non ci piace? No, ma il desiderio c'è, e non ce l'esigiamo. No, dai, il desiderio è l'esigenza, dai, il desiderio c'è. Quindi rispetto alla sua domanda, l'esigenza come si crea di questo cambiamento? Il desiderio dovrebbe, e a volte capita, diventare politica. Questo desiderio dovrebbe diventare politica, cioè esigenza, cioè movimento collettivo. Può diventarlo soltanto se si intensifica. se oggi siamo noi, domani no, se qualcun altro sta facendo la stessa cosa, perché no? Senza dubbio, se noi siamo qui e ci diciamo certe cose, ci sarà altra gente che dice le stesse cose da qualche altra parte. Non è vero questa esigenza di consapevolezza di sé? Che forse sia ancora uno stadio prima, io vedo questa esigenza non c'è, perché vedo che si efferbia ancora a un forte senso di inadeguatezza rispetto al mondo, quello che il mondo ci chiede. Per cui mi chiedevo anche, ti chiedo anche, come questo corpo teatro può in qualche modo aiutare a superare questo visto di inadeguatezza che è potentissima, trasversale, che ci riguarda anche tutti, credo. Pensa ai social, come tutti si. Si autorappresentano tutti in scena, forme di autorappresentazione che rispondono alle aspettative stereotipate. Ma sui social è tutto in vendita, La vendita, questa è la persuasione, la seduzione, ma è tutto diventato vendita di sé stessi, cioè sé stessi come merci. Cioè è un sostituto dell'erotismo, tant'è che nelle culture avanzate sempre di più, noi stiamo cambiando il nostro rapporto con la sessualità. Sempre di meno si fa sesso, perché le endorfine divengono nei social. Il rapporto con la sessualità nei paesi avanzati, nei paesi ricchi sta cambiando radicalmente. È sempre meno vissuta come un'avventura, come un piacere. Invece c'è il rischio, schifo, un sacco di cose, aggressività, competizione, ansia da prestazione, un casino. Sempre meno corpo. È un problema terribile. Invece di essere una risorsa, è un problema. E quindi la scelta saggia molto è di ritirarsi. Anche questo fenomeno inedito, nuovissimo, è sempre più massivo. Ritirarsi dalla sessualità per non affrontare il problema. Dobbiamo che fare con problemi enormi. Però sono problemi teatrali. Noi finché siamo vivi, però non con l'utopia, non con l'utopia, con l'azione psicofisica quotidiana, con l'agnosida. Poi drama vuol dire azione. Esatto. Insieme. Drama non si va da soli. Credo che nessuno di noi sia pentito di aver passato questa serata. Se noi siamo gratificati da pratiche di questo tipo, questo vuol dire che il fenomeno può essere contagioso. Uno c'è però... Che altro si può sperare? Sono dieci anni. Non è vero che ci provi, lo fai. Fai quello che puoi. Diceva davvero bene. Il genio fa quello che può.